Solo una parola. Beati, saranno felici. A me piace coniugarla al presente. Sarai sei felice, perché se, come stiamo dicendo in questi giorni, stiamo verificando la nostra fede nella salvezza, la nostra speranza nella vita eterna, se si avrà il coraggio di toglierti tutto, di spogliarti di ogni cosa, di tutti quei cavilli, di tutti quei vezzi, di tutte quelle catene che ti impediscono di essere libero per amare, se partecipi al sogno di Dio. Sì, perché noi oggi, nella festa di tutti i santi, siamo messi di fronte alla realizzazione, al compimento del sogno di Dio, che vorrà aprirci definitivamente le porte della sua casa, perché tutti i suoi figli partecipino alla festa, lo vedremo anche domani, perché tutti prendano parte. Beati, sii felice, perché ti è data la possibilità di partecipare a questo sogno, di essere un protagonista, perché tutto è pronto ed è pronto per te. I fratelli che oggi noi veneriamo sull'altare non sono niente altro che una chiamata a fare altrettanto, non sono migliori di me e di te. Se andiamo a vedere le varie biografie dei santi che veneriamo, scopriamo la loro piena umanità e come quest'umanità, aperta alla grazia dello spirito, si è convertita alla grandezza dell'amore di Dio. Un amore che passa nelle sofferenze, che passa attraverso le ostilità della vita, un amore che, come vediamo nelle beatitudini, passa anche attraverso le negazioni di quella felicità che ci dovrebbe riempire il cuore. Beh, Gesù si sta proponendo come l'uomo delle beatitudini. Fate quello che ho fatto io, ci dirà nell'ultima cena nel Vangelo di Giovanni, e quello che ho fatto fatelo anche voi. Cosa? Tenete lo sguardo aperto, sull'orizzonte che è la vita eterna, nelle prove della vita, nelle difficoltà che vi attaccano, tenete lo sguardo aperto. Desidera. Com'è bella questa parola. Un giorno Don Davide, Bertocchi, che conoscete bene, fece un po' l'analisi di questa parola. Desidera, desider, guarda il cielo, prenditi il cielo. È quello che il Signore ci sta dicendo. Beati sono quelli che, nonostante la vita, riescono a concentrare il proprio sguardo sul cielo. Beato è chi, come Gesù, affronta l'oggi nella certezza del domani di Dio, il suo sogno che si realizza.